la mia storia di oggi è dedicata ai traditori ma io dico damante ma quanto sei colione da 1 a 10 quanto ti sei lasciato perdere una ragazza come Giulia deliziosa carina autentica per bene eccetera per che cosa per 4 scappate di casa mi viene solo da farti un coro coglione 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 sei un coglione coglione per la mia storia di oggi